Signori, bentornati in un nuovo video flash. La raccolta fondi per Keyforge ha tagliato il traguardo dei 550 mila dollari e con il raggiungimento di questo obiettivo la Ghost Galaxy ha annunciato ufficialmente una delle novità più attese da molti forgiatori. Arriva la terza avventura di Keyforge che prenderà il nome di Fall of the House Gormengeist che vi rivedrà protagonisti delle vicende svolte in un'ambientazione horror alle prese con chissà quale oscuro potere nei pressi di Diremouth, un luogo dimenticato e situato nell'angolo più remoto del crogiolo. La cosa che più mi colpisce è il titolo di questo nuovo capitolo di Keyforge, La caduta di casa Gormengeist, che sembrerebbe un gioco di parole atto ad anticipare il nome della prossima casata, la dodicesima, che apparirà nel settimo set Grim Reminders. Chissà. L'avventura sarà disponibile attraverso un add-on acquistabile sul GameFound al prezzo di 24,99$. Se invece avrete acquistato il pacchetto Breaker of Chains e o Turner of Keys, l'Adventure verrà aggiunta gratuitamente al totale per ringraziare chiunque abbia sostenuto così fortemente il progetto di rilancio. E con lo sviluppo di questo nuovo intrigante mistero che anticiperà il settimo set, chissà se non ci sarà la presenza anche di un Playmat dedicato che fornirà una plancia di gioco ufficiale a chiunque vorrà entrare nella magione per vivere un'esperienza terrificante. Devo migliorarla un po' la risata da cattivo. Come sempre in descrizione vi lascerò tutte le informazioni utili dove potrete ammirare da voi il sinistro fascino di questa nuova Key Forge Adventure. E voi cosa ne pensate di questo ennesimo colpo da parte della Galaxy? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.